Medici specialisti Per un semplice controllo o una malattia non grave, andiamo dal medico di famiglia. Se abbiamo bisogno del medico di notte nei fine settimana o nei giorni festivi, chiamiamola guardia medica. Il chirurgo è il medico specialista che compie operazioni sul corpo umano. Il cardiologo è lo specialista del cuore. Il dottore dei bambini è il pediatra. Se ci fa male un dente, andiamo dal dentista. Chi ha problemi alla pelle va dal dermatologo. Se abbiamo problemi al ginocchio, alla spalla o alle ossa, possiamo andare dall'ortopedico. Il ginecologo o la ginecologa si occupa della salute dell'apparato riproduttivo femminile e segue le donne durante il periodo della gravidanza. L'otorino laringoiatra cura tutte le malattie della gola, del naso e delle orecchie. Se abbiamo un problema agli occhi, andiamo dall'oculista. Il dietologo è un medico specializzato in nutrizione. Lo psicologo si occupa della salute e del benessere individuale e di gruppo in ambito clinico, aziendale, delle organizzazioni e delle comunità. Il farmacista ci può consigliare, quando abbiamo leggeri malesseri, farmaci OTC, farmaci da banco o quelli senza bisogno di prescrizione medica, oppure ci può dare le medicine che ci ha prescritto il nostro medico di base. Andiamo in farmacia con la prescrizione medica o ricetta, che è un foglio stampato in rosso e in questo caso dovremmo pagare pochissimo o per niente le medicine di cui abbiamo bisogno. Se invece il foglio è bianco, dobbiamo pagare per intero il medicinale. Dobbiamo fare sempre molta attenzione quando prendiamo delle medicine. È importante seguire le indicazioni che ci hanno dato medico e farmacista. Vediamo adesso quali sono i farmaci principali. L'antidolorifico è una medicina contro il dolore, che possiamo assumere attraverso un'iniezione o in compresse. Una compressa è una polvere compressa in forma solida, mentre una capsula è costituita da polvero gelatina racchiusa in un contenitore solubile cilindrico. Sono molto diffuse anche le compresse effervescenti, un particolare tipo di compresse che una volta a contatto con l'acqua si sciolgono e formano tante bollicine. Queste compresse, come le gocce, devono essere consumate disciolte in un bicchiere d'acqua. Il collirio è un farmaco che viene usato per la cura degli occhi. La pomata è una preparazione farmaceutica da applicare sulla pelle. Ai bambini, quando hanno la tosse, di solito diamo un cucchiaio di sciroppo e, in caso di ferite, li medichiamo con il disinfettante, il cotone e le garze e poi applichiamo un cerotto. Quando abbiamo il raffreddore, liberiamo il naso con uno spray nasale. Infine, le vaccinazioni sono un importante ed efficace strumento di prevenzione della sanità pubblica. Consentono di evitare la diffusione di malattie che possono causare anche la morte. Le vaccinazioni sono gratuite.